Per me è una grande emozione, tanto tornare qua, ma soprattutto presentare questo film che quando abbiamo concepito la storia e poi realizzato le riprese, è stato un periodo tremendo per tutti noi, anche per voi immagino, di distanziamento, di cinema chiusi e ci siamo interrogati tante volte su che cosa ne sarà di noi, della nostra vita, ma anche del nostro lavoro. Però torneremo nel momento in cui abbiamo cominciato a pensare a questa storia, eravamo in lockdown, distanziatissimi, comunicavamo attraverso Meet, Zoom, abbiamo imparato a usare queste applicazioni, i figlioli erano in dad, che non vuol dire papà abbiamo appreso, ma vuol dire didattica a distanza. Sì, mi stavo grattando, va bene lo stesso. E insomma, dovevamo fare, volevamo anche, ci sentivamo anche responsabili di dire, ma forse questa cosa va raccontata, questa cosa che stiamo attraversando, che l'umanità sta passando, tutti noi. Ma allo stesso tempo era difficile immaginare, eravamo all'inizio, no? Ma quanto durerà? Cioè, gli attori torneranno sullo... Ci saranno mai più le scene dei baci nei film o si... Gomito a gomito. O appunto sarà il modo di manifestarsi l'affetto quello di toccarsi con i gomiti, ma al di là di questo, come sarà la nostra vita, cosa... E quindi questo film nasce come pensiero proiettato quasi nel futuro in quel momento, proiettato anzi, non quasi, decisamente, in un futuro immaginario. Perché dicevamo, raccontiamo una storia che avviene dopo, cioè con la pandemia alle spalle, e cosa è rimasto nelle persone, cosa succede alla vita della gente, nei cuori, nella testa della gente, dopo questa esperienza, senza nominarla, anche perché non è che ci interessava di fare l'instant movie, il lockdown all'italiana, o l'amore dopo il tampone, ma ci interessava proprio di andare un pochino più dentro la sostanza dell'anima delle nostre vite, e quindi anche un discorso collettivo, sui rapporti tra le persone. Quindi è uscito fuori questo progetto di un film collettivo, insomma di un film corale, con tanti personaggi, molto affollati, forse anche per il desiderio di riaffollarsi in un momento in cui eravamo distanziati. E c'era anche, soprattutto, poi il grande tema, noi stiamo girando sto film, perché poi nel 2020 l'abbiamo scritto e nel 2021 l'abbiamo girato. E in 2021 è stato ancora un periodo di zone rosse, zone blue, semi-lockdown, modalità sui set da reparto di infettivologia. Noi eravamo tutte le mattine, c'era quella novità del set, era che c'erano appunto le file ai tamponi, quelli rapidi, quelli involecolari, e ogni tanto succedeva quella cosa, tipo grande fratello, che veniva qualcuno e diceva sei fuori della casa. È successo anche a me, peraltro stavo per girare un'inquadratura con Mastandrea e Rochino in un'automobile, lui ha il volante, vedete che fa un autista disperato, e uno mi fa da dietro, così era il Covid manager, che mi dice si deve allontanare dal set. Sì, finisco questa inquadratura, no no, devi proprio, perché erano raggiunti i risultati del molecolare, e io ero positivo, e quindi sono stato portato via da due persone gentili, sembravo Blanche Dubois in un tram chiamato Desiderio, e mi hanno scortato sopra un van, e mi sono affacciato al finestrino, ho visto arrivare tutta la troupe Valerio, i bigazzi, il direttore dell'autografia, la segretaria di edizione, gli attori, che mi guardavano, e mi diceva dove vai? E mi diceva, ma mi portano via! E sono stato venti giorni in quarantena, insomma un po' di febbraccia, la brutta, la prima notte, però niente di gravissima, era per me però disperato, perché c'era un set che mi aspettava, e intanto è vero che dopo due settimane, che non mi negativizzavo, giusto? Hanno organizzato la RAD, la regia a distanza, cioè mi hanno messo dei monitor nella mia camera da letto, e ho sperimentato anche sta roba, ho girato una settimana in RAD, peraltro non male, a parte la comunicazione con gli attori, che in effetti ne soffriva tantissimo, però la concentrazione sulle riprese era maggiore, per cui se fossimo la Corea del Sud, con la banda larga veloce, e i nostri iPad funzionassero, potrebbe anche essere presa in considerazione, però insomma un grande tema mentre giravamo era questo, ma sto film come lo faremo vedere? In quel momento c'era del pessimismo, circa la possibilità di mostrarlo su un grande schermo, per cui c'era ogni tanto il dilemma, il direttore della fotografia che diceva, ma come la giriamo questa? Con il 18, il 14 per il grande schermo, o col 32 per il piccolo schermo? E io dicevo sempre, no 14, 18, grande schermo, grande schermo, basta, grande schermo, è un pazzo, proprio come una specie di incosciente, e quando l'abbiamo finito di montare, era dicembre del 2021, e ancora la situazione purtroppo era ancora faticosa, insomma le sale, come stavate qua? C'era un meno 65 per cento, mi ricordo. Sì, era forte il caso. Ecco, così, abbiamo detto, no ma teniamo duro, aspettiamo settembre, forse a settembre si ricomincia, forse avremo le sale piene, e forse lo facciamo sul grande schermo. E quindi è viva, ci siamo, siamo qua. Ce l'abbiamo fatta. Comunque, io Paolo ti voglio ospite sempre, perché avevo duemila domande, hai già risposto a tutte quelle che volevo farti, quindi benissimo. No, no, dai, fammi, io ti ririspondo. No, però ce n'è una, che di sicuro non ti hanno fatto, perché non riguarda il film. Allora, parlavi appunto anche tu adesso della situazione che abbiamo appena vissuto, che è il nostro passato recente, no? La gente si è abituata, ha trovato nuove abitudini, purtroppo. Una di queste ha inciso anche sul cinema, no? Che molte persone preferiscono stare a casa, col proliferare delle duemila piattaforme che sono spuntate come funghi in questi anni. Ecco, sembra paradossale chiederlo a un regista. Noi come Cinema Zero ci siamo interrogati, abbiamo una risposta, e siamo molto sicuri della nostra risposta, non abbiamo dubbi. Però te lo chiedo anche a te. Perché ha senso andare al cinema? Perché la sala? Guarda, l'ideale sarebbe che le piattaforme, la quota tecnologia che ci consente di accedere a delle library sterminate sia un arricchimento dell'esperienza dello spettacolo cinematografico e non una sottrazione. E quindi, che cos'è l'esperienza immersiva della sala dal punto di vista dell'innebriarsi, dell'emotività? Ma possiamo farlo, certo. Facciamolo, dai, facciamolo. E' quell'incanto che ha fatto innamorare, lo domandi a qualcuno appunto, io una volta mi sono svegliato nel cuore della notte, nel buio di una sala cinematografica, perché mi ero addormentato in sala dopo una maratona Fassbinder. Mi piacevano molto, non è che stavo ironizzando su Fassbinder, è che ne avevo visti tanti, però l'ultimo si vede che avevo ceduto ed non si erano accorti che c'era uno che si era addormentato, erano usciti tutti. E mi ricordo in quel cinema, i quattro mori di Livorno, non c'erano i maniglioni antipanico ancora. Per cui, e non c'erano i telefonini, capito? Per cui mi sono trovato in sto posto, nel buio più totale, ci ho messo un bel po' prima di ritrovare, di guadagnare la possibilità di trovare un pertugio per uscire da sto posto. È stato anche un momento anche di terrore, vero, perché non vedevo niente. Quindi, uno che si addormenta è perché vorrebbe stare lì, è come se fosse casa sua, insomma, e in effetti l'esperienza che è il grande schermo, le qualità del suono quando ci sono e al Cinema Zero ci sono e anche la bellezza, la gioia di sentire, commuoversi o ridere o angosciarsi gli altri vicino, cioè che questa cosa è una roba che viene condivisa. Peraltro, questo film è proprio su questo tema qui, cioè che cos'è la siccità oltre a essere la catastrofe ambientale che sappiamo è anche quella di naridirsi dei sentimenti, delle relazioni, la solitudine, il stare distanti, avere difficoltà a comunicare se non attraverso i dispositivi, ecco, cos'è che sta facendo un po' collassare le nostre società e mettendo in crisi tante cose che stanno scricchiolando compreso la democrazia e questa difficoltà a connettersi con gli altri e a sentire che il nostro destino è comune, ecco, ecco, questa storia che appunto è una storia corale dove le storie all'inizio le vicende delle persone marciano parallele e che poi scoprirete piano piano si incontrano e che questa cosa qui è il tema proprio vitale del nostro futuro se vogliamo avere un futuro dobbiamo pensare che siamo insieme che certe cose che riguardano ciascuno di noi riguardano anche quegli altri cos'è successo durante la pandemia ci hanno aperto gli occhi su delle cose è stato un dramma ma anche una specie di come se ci avesse scosso facendoci dire ma scusate ma non era un periodo che dicevano america first prima gli italiani ma come si fa perché i virus si fermano alla dogana no è chiaro che questo è un tema globale così come sono globali tutti i temi rilevanti di quest'epoca il clima ecco a volte poi ce lo dimentichiamo perché la nostra mente per proteggere l'angoscia mette in atto un meccanismo che si chiama autoinganno e diventiamo ciechi e non lo vediamo più sta roba e quindi continuiamo anche a sbagliare e siamo artefici persino delle catastrofi che vanno a compromettere il nostro benessere la nostra salute la nostra vita ecco è la nostra felicità quindi alla fine questo film dentro c'è una risposta alla tua domanda è sì è fico avere la smart tv costa ormai abbastanza poco comprarla avere tutte le piattaforme io trovo i film del vecchio cinema italiano che magari non le trovavo però vuoi mettere questa cosa di vivere l'esperienza insieme vuoi mettere questa cosa con me è più fico stare tutti i cazzo seduti uno accanto all'altro adesso vedrete un film di due ore dei virzi però magari speriamo che vi piaccia però non siete soli anche nell'angoscia eventuale c'è qualcosa di condiviso avete vissuto insieme un pezzetto due ore della vostra vita li avete vissuti emotivamente legati agli altri e questa di per sé è la medicina più forte per la nostra infelicità e per uscirne fuori è bene è bellissimo sei carvato? sì guarda che bel sorriso ha questa bimba sì c'è una signora col ditino alzato e noi la vogliamo noi ci conosciamo con Cinema Zero perché collaboriamo il cinema d'estate volevo solo dire una cosa la cosa fondamentale secondo me di un film bello visto al cinema è che uno se lo ricorda per la vita e se vuole se lo rivede in televisione ma un film sfido chiunque che vede in televisione non se lo ricorda dopo due ore e questo è fondamentale per me perché è importantissimo ricordare un bel film le scene la musica gli attori tutte varie cose grazie sono d'accordo sottoscrivo posso esporre finalmente mi anticipi tutto oggi è tutto un anticipare un spoilerare come abbiamo detto prima arriva e mi fa che bella borsa ma come te la devo regalare e già la guardi vabbè allora è tua no ma è stupendo soprattutto la frase motivazionale che c'ha sopra e sono d'accordo totalmente questa è la nostra borsa vale in questo verso ma vale anche nel suo verso contrario un film è la vita o perlomeno prova ad assomigliare a raccontare la vita se vai a un'altra maratona di Fassbinder questa si illumina al buio quindi e poi non è finita qua con i regali ti lasciamo appunto perché hai parlato di collettività di stare insieme una cosa che contraddistingue il cinema zero è la comunità non è pubblico fatto di numeri ma è fatto di persone noi crediamo molto in questo e quindi ti lasciamo la nostra tessera perché intanto ti vorremmo che tu ritornassi qui e ci teniamo veramente e poi perché sei anche tu un tassello della nostra comunità quindi te la te la diamo con via grazie sono molto orgoglioso posso abbracciarla e vi saluto vi auguro buona visione e vado a Udine perché sennò tornavo alla fine però lei mi racconterà le vostre reazioni per cui eventualmente se volete lasciarle anche un bigliettino ci pensa lei grazie tante e vi voglio bene buona visione ve dammi un grazie 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 grazie